Per un grande progetto serve una larga base Nello sport come nella vita c'è bisogno di sostegno Il crowdfunding serve per ottenere risorse che non abbiamo Perché? Per dare un'opportunità a tutti Anche a chi non se lo può permettere Per poterci comprare le divise Perché non siamo una società e la società deve aiutarci Perché questa squadra appartiene a voi Per dare la possibilità al nostro progetto di crescere e di continuare Perché se no viene la pefana e vi porta solo carbone Farina Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti